Battaglia di Campli, in provincia di Teramo siamo 700 metri sul livello del mare, il commensale del borgo è il nome di questa festa, ormai giunta l'ottava edizione, 5 giorni intensi, insomma davvero da vivere. In questa edizione 2013 insieme alla presidentessa dell'associazione tra i due regni, Flavia Di Marco, ci facciamo raccontare quello che avviene in questi 5 giorni, insomma anche per prepararti all'edizione 2014. Certo, molto volentieri, grazie innanzitutto di essere qui e di offrirmi questa opportunità, di raccontare quello che avviene in questi giorni magnifici per questo paese che è un piccolo paese di montagna. E' un piccolo borgo, come voi potete vedere, dove sono trascorsi 5 giorni ed è venuta gente da tutti i posti per assaggiare tutti i piatti che offriamo in questa manifestazione. Infatti la cosa bellissima di questo fatto è proprio che il commensale del borgo non prevede un piatto caratteristico ma prevede diversi piatti tipici. Non ne abbiamo uno caratteristico, ne abbiamo riproposti più di uno appunto perché la gente non perdesse la tradizione di questi piatti che in parte sono piatti vecchi come i fagioli con le cotiche, la sfogliata che è un dolce tipico locale, era un dolce molto antico ed era chiamato il dolce dei poveri perché si faceva con quello che si raccoglieva qui in campagna a disposizione. Abbiamo poi le tagliatelle che sono piatti un po' diversi, abbiamo gli gnocchi al sugo di cinghiale, i maccheroni con le pallottine come piatto tipico abruzzese. Oltre questo poi abbiamo riproposto la capra in umido alla battagliese che viene cotta da una signora giovane ma a dire e le esce molto bene. Poi il formaggio fritto, gli spiedini di formaggio, le mazzarelle che non sono un nostro piatto tipico perché nel Terramano comunque vengono proposte, c'è proprio una sagra per le mazzarelle ma noi le cuociamo in modo un po' diverso e le facciamo in modo abbastanza diverso. Sicuramente sono gustosi. Raccontiamo anche le escursioni in questi cinque giorni perché il commensale del borgo prevede sì il buon mangiare, i piatti tipici della tradizione, ma prevede anche una serie di manifestazioni all'interno di questa grande manifestazione. Abbiamo voluto integrare questa manifestazione con qualche evento che potesse far rivivere un po' il territorio. Noi qui abbiamo la montagna che è l'unica risorsa diciamo e a dire il vero anche noi non è che la conosciamo più di tanto e quindi con queste due escursioni abbiamo un po' rimesso a posto i percorsi e abbiamo fatto vedere questa nostra montagna a un po' di persone che magari non la conoscevano. Dico che comunque non è solo un evento dove si possono degustare i piatti. Ogni serata è accompagnato da qualcosa di culturale, ogni anno mettiamo qualcosa diverso e ci proponiamo di fare sempre qualcosa di meglio. Con il professor di storia del diritto Federico Roggero dell'Università di Teramo, diciamolo, ci facciamo raccontare questa forte amicizia che avete con l'associazione. L'amicizia è nata fin dall'inizio, fin da quando mi hanno proposto di dare una mano e io non mi sono tirato indietro perché sono convinto che si debba coltivare questo rapporto uomo-territorio e lo spirito della sagra. Voi vedete il nome della sagra, il commensale del borgo. La sagra non è dedicata a un prodotto particolare, è dedicata invece a raccontare la vita di un borgo, di un borgo di montagna, di un borgo che vive del rapporto col territorio, del rapporto specialmente con la montagna e quindi l'idea è quella di allestire tutto il borgo. Infatti c'è tutto il borgo che si può visitare, in ogni angolo ci sono eventi, ci sono particolarità da vedere e quindi non soltanto mangiare ma anche vivere, vivere un momento in montagna in mezzo alla gente della montagna, con l'ospitalità della gente della montagna. Per trovare un pochino le radici, lei professore, in che modo ha collaborato con l'associazione? Come si può sentire dalla mia parlata, io non ho radici qui, io non vengo da qui, io sono romano, però una delle grandissime risorse del territorio abruzzese sono le radici. Gli abruzzesi hanno un fortissimo radicamento con il loro territorio, questo rapporto uomo-natura, uomo-ambiente ha forgiato le comunità nel corso del tempo e sono convinto che questa sia la forza ancora dell'Abruzzo. L'Abruzzo deve partire da qui se vuole rinnovarsi, se vuole lanciarsi verso le sfide del futuro. Che cosa bolle in pentola per il 2014? Per il 2014 forse ci sarà un gemellaggio, non lo so, forse, se ci riusciremo. Allora guardi, già quest'anno abbiamo innovato molto perché abbiamo inserito nel contesto della Sagra, seppure un po' a margine, abbiamo inserito presentazioni di libri, abbiamo inserito un evento nel quale uno storico del linguaggio ha riproposto alcune testimonianze dei dialetti locali. Io credo che questa sia la strada, degustazione di vini locali, questa è la strada, cioè mettere in evidenza le peculiarità, le ricchezze del territorio che sono gastronomiche ma anche non soltanto gastronomiche, anche culturali, musicali, per vivere la montagna abruzzese a tutto tondo, a pieno. E questo credo che ci rifletteremo ma troveremo anche altre possibilità per l'anno prossimo. E allora l'appuntamento è per la nona edizione, per il commensale del Borgo, Battaglia di Campri, in provincia di Teramo, al 2014. Grazie. Grazie.